I carabinieri della stazione di Campobello di Mazzara e della sezione radiomobile della compagnia di Mazzara del Vallo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, hanno denunciato un pregiudicato mazzarese classe 93 presunto responsabile del danneggiamento seguito da incendio delle due autovetture della Polizia Municipale date alle fiamme la notte scorsa davanti al municipio di Campobello di Mazzara. Dopo la segnalazione al 112 da parte di un cittadino di alcune auto in fiamme davanti al comune, i carabinieri sono subito giunti in via a risorgimento a Campobello di Mazzara allertando i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio delle due auto della Polizia Municipale andate completamente distrutte. A seguito dell'immediata attività d'indagine svolta dai carabinieri tramite l'estrapolazione di immagini di videosorveglianza pubbliche e private, sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico del trentenne, ripreso mentre pone sopra le auto dei cartoni e delle riviste presi da un bidone della differenziata nelle vicinanze per poi accenderli con il fuoco. L'uomo, noto agli operanti per i precedenti di Polizia, è stato subito riconosciuto e rintracciato dai carabinieri che lo hanno denunciato alla competente Procura della Repubblica.